Tre liste presentate a perdifumo, quella del candidato sindaco uscente Vincenzo Paulillo, quella del vice sindaco uscente Malandrino Rosaria e quella di Antonio Mondelli. Una quarta lista, quella dell'ex amministratore Stefania Desimone, è stata ritirata all'ultimo istante. Ma c'è di più, due delle liste presentate sono state escluse dalla Commissione, ovvero la lista del sindaco uscente Paulillo e quella del vice sindaco Malandrino. I candidati a sindaco hanno fatto ricorso al TAR che probabilmente si esprimerà giovedì. La lista del candidato a sindaco Vincenzo Paulillo è formata da Comunale Alfonso, Di Muoio Carlo, Botti Cleri, Marseo Ronzio, Russo Andrea, Bruno Mario, Matarazzo Nazario, Vigorito Vincenzo, Cauceglia Massimo, Vincenzo Apicella. La lista del candidato sindaco Malandrino Rosaria è formata da Coccorullo Giuseppe, Pisano Agostino, Di Gregorio Carmine, Malandrino Angelica, Materazzi Domenico, Malandrino Giacomo, De Vita Caterina, Contente Antonio, Corvo Carlo, Treppete Francesco. Infine la lista del candidato sindaco Mondelli Antonio è formata da Farsati Gino, Di Gregorio Salvatore, Maffongelli Teodosio Gerardo, D'Agosto Francesca, Corradino Maria Rosaria, Mignone Carmine, Contente Maria Teresa, Ponesa Piero, Malandrino Carmine, Detto Carmelo.